Flavia Elena Giulia, in seguito Sant'Elena, era la madre dell'imperatore Costantino, che la elevò a rango di Augusta in occasione dei Vicennalia, una sorta di festa per i vent'anni di regno, tra il 325 e il 326, cosa non da poco perché di fatto consegnava nelle sue mani un potere non indifferente nell'Occidente romano, tenuto conto che Costantino si teneva lontano da Roma. Ebbene, la piadonna di umine origini, stapularia, cioè locandiera o addetta alle stalle, convertitasi al cristianesimo, decide verso gli 80 anni di intraprendere un viaggio in terra santa, combinando, sembra, due aspetti, quello politico e quello religioso. Lì avviene un fatto eccezionale, l'invenzio vere crucis, il ritrovamento della vera cruce su cui Cristo fu crucifisso. Sull'episodio, peraltro, taciuto da Euslebio di Cesarea, uno dei padri della Chiesa, consigliere e biografo di Costantino, nascono più tardi diverse storie. Se per Sant'Ambrogio viene riconosciuta dall'iscrizione, per altri avviene attraverso miracoli, tipo resuscitare i morti o guarire gli ammalati. La più curiosa è quella del beato Jacopo da Varagine, autore di una leggenda aurea scritta nella seconda metà del 1200, che descrive le vite dei santi. Nel capitolo 68, De Invenzioni Sancte Crucis, si narra che la vegliarda, forte della sua autorità, convoca un gruppo di giudei e minaccia di bruciarli se non rivelano il luogo della croce. I impauriti gli portano un ebreo, che ha pure la disgrazia di chiamarsi Giuda, che tenta di stare sul vago, finché, gettato in un pozzo vuoto senza cibarie, si ravvede il settimo giorno e svela il posto. Per farla breve, il racconto termina con il ritorno di Elena a Roma, con alcune reliquie, che porta nella sua chiesa, insieme a un po' di terra raccolta in terra santa, che seppellisce nel luogo di culto, costruito presso il suo palazzo, il Palazzo Sessoriano. Di lì a poco, la Basilica prenderà il nome di Santa Croce in Gerusalemme e sarà inserita nel circuito delle sette chiese. Il primo radicale rifacimento della chiesa avviene nel 1144, per volere di Papa Lucio II, il bolognese Gerardo Caccianemici, che regna meno di un anno. Di quel periodo è anche il campanile. Un altro Papa bolognese, Benedetto XIV, al secolo Prospero Lambertini, compie l'ultima grande ristrutturazione. Corriva l'anno 1743. Si affida a due architetti, il romano Domenico Gregorini e Pietro Passalacqua, siciliano di Messina, che fin dall'apprendistato laureranno insieme. Nella facciata, ultimo sussulto barocco dal respiro borrominiano, scandita da fasci di pilastri in ordine gigante, cioè che si elevano per tutta la lunghezza senza interruzione, si aprono tre entrate. La maggiore centrale ad arco, a tutto sesto, è sovrastata da un finestrone ovale, mentre due finestre centinate, inquadrate da cornici, si aprono sopra le entrate laterali. Le cui campate culminano con una balaustra, su cui sono poggiate sei statue, che rappresentano Sant'Elana di Tommaso Brandini, San Luca, con il suo simbolo iconografico il bue, di Agostino Corsini, San Matteo con l'uomo alato, opera di Carlo Marchionni, San Giovanni con l'aquila di Peter van Verschaffelt, San Marco con il leone di Giovan Battista Grossi, e Costantino l'imperatore del parigino Pierre del Stache, sempre del Grossi invece il gruppo dei Cherubini. Alcuni di loro lavoreranno nelle statue della Fontana di Trevi, mentre Peter van Verschaffelt, Fiammingo, sarà l'autore dell'Arcangelo Michele, posto sulla sommità di Cassal Sant'Angelo. Insomma, non semplici artigiani, ma valenti scultori. L'Atrio mantiene ancora Echi del Barocco, con la cupola ellittica, ma la sua monumentalità, il gusto severo privo di ornamenti, ne denunciano la transizione verso lo stile neoclassico. Entrando, accolti da due acquasantieri cinquecentesche, il mantenimento delle antiche colonne stile corinzio e la conservazione del pavimento cosmatesco in parte rifatto, attenuano le ristrutturazioni settecentesche, evidenti nel sonfitto, nel cui centro spicca l'affresco del pittore Corrado Giacquinto da Molfetta, che passando da Napoli si fermerà a lungo a Roma, prima di essere chiamata a Madrid come pittore di corte. L'opera rappresenta la Vergine Maria che presenta Sant'Elene e Costantino alla Trinità, ed è databile intorno al 1743. La chiesa a tre navate non ha cappelle, ma sei altari, nelle navate laterali e partendo da destra un miracolo di San Bernardo, l'estrazione di un dente dalla mandibola di San Cesareo, copia moderna dell'originale perduto del 1675 di Giovanni Bonatti Ferrarese. È un San Bernardo che induce l'antipapa Vittore IV a fare atto di sottomissione nei confronti di Papa Innocenzo, fatto avvenuto il 29 maggio 1138, opera realizzata da Carlo Maratti tra il 1656 e il 1658, committente l'abate superiore del convento Alberico Melsi, che come avrete capito apparteneva all'ordine del santo, quello dei monaci cistercensi. Come pure la tela del terzo altare è dedicata al fondatore dell'ordine, il sogno profetico di Ermengarda, madre di San Roberto di Molesma. L'opera è attribuita a Raffaello Vanni, realizzata nel 1657 circa. Nella navata di sinistra, andando verso l'uscita, troviamo una tela di Luigi Gazzi, pittore pistoiese, San Silvestro che mostra a Costantino le effigie di Pietro e Paolo, 1675 circa. Un crocifisso ligneo forse da Quattrocento e sempre nello stesso anno, il 1675, una tela del roman Giuseppe Passeri, allievo del Maratti, l'incredulità di San Tommaso. Nell'altare maggiore, un ciborio, coevo alla ristrutturazione settecentesca, ha sostituito il precedente, conservando le antiche colonne. L'opera, dal sapore moderno, è attribuita agli stessi architetti Gregorini e Passalacqua. Sotto, un'urna di basalto contiene le reliquie di Sant'Anastasio e San Cesareo. Sulla volta e ai lati del catino absidale, tre affreschi, sempre del Giacuinto, l'apparizione della croce e due episodi biblici, il serpente di bronzo e Mosè che fa scaturire l'acqua. E al centro, la tomba del cardinale Francisco Chignones, morto nel 1540, attribuita a Jacopo Sansovino, architetto e scultore fiorentino, con sopra un tabernacolo sul disegno del ticinese Carlo Materno. Ora veniamo a una delle opere più interessanti, l'invenzione della vera croce, che nel linguaggio ecclesiastico ha il significato di ritrovamento, e lo specifico perché dalle parti nostre spesso è sinonimo di balla, cioè un fatto che non ha alcun fondamento nella realtà. L'affresco, databile alla fine del XV secolo, oggi attribuito ad Antoni Assoromano, pittore rinascimentale, narra infatti, con una vivace scena, l'episodio, ispirandosi alla storia di Jacopo da Varagine, di cui abbiamo accennato. Vede al culmine il Cristo benedicente con un versetto di Giovanni, Io sono la via, la verità e la vita, inserito nella mandorla tra schiere di angioletti, e in basso l'episodio della scoperta. A sinistra lo scavo nel luogo che l'ebreo Giuda ha indicato, e il ritrovamento delle tre croci del Calvario, quindi il riconoscimento della croce di Cristo attraverso il miracolo di un morto che resuscita, il committente cardinal Pedro González de Mendoza, inginocchiato, e infine, saltando d'epoca, l'imperatore bizantino Eraclio, che sconfitto il persiano Cosroe, riporta la croce sottratta durante un saccheggio a Gerusalemme, scalso e vestito da pellegrino. Era il 21 marzo 630. In effetti doveva essere una parte della croce, anche se consistente, ma è chiaro che per dare effetto alla storia affrescata, la croce intera diventa una comunicazione più efficace. Scendendo a testa dell'abside, attraverso una breve cordonata, dove, inserite nella parete, troviamo una serie di mattonelle maiolicate cinquecentesche che riportano la storia della croce, ma anche della chiesa e dei suoi restauri, entriamo nella cappella di Sant'Elena, in cui le originarie tre tele dipinte nel 1602 dal giovane Rubens, di cui due originali e una copia oggi conservate nella cattedrale di Grasse, cittadina della Provenza, sono state sostituite da una stata romana del III secolo, adattata allo scopo. In alto, un ricco mosaico impreziosisce la cappella, anche se dell'antica decorazione musiva voluta pare dall'imperatore Valentiniano III, quindi intorno alla prima metà del Quattrocento, non rimane nulla, in quanto venne rifatto nel 1484 forse da Melosso da Forlì, quindi rinnovato agli inizi del 1500 sotto la direzione parrebbe del senese Baldassarre Peruzzi, poi ancora a fine 500 dal fiorentino Francesco Zucchi. Al centro, il Cristo benedicente con angeli musicanti circondato da quattro evangelisti con i loro attributi iconografici, intervallati dagli episodi sempre sul ritrovamento della croce, nell'arcone di fondo Pietro e Paolo e nell'arcone d'ingresso San Silvestro Papa e Sant'Elena, con il committente, il cardinal Bernardino López de Carvajal, che nonostante l'aria paffutella, si dimostra un tipo piuttosto vivace, tentò infatti di deporre Papa Giulio II, facendosi eleggere come Papa Martino VI, fin in galera, ottenendo in seguito il perdono papale da parte di Leone X. Sul sommo delle pareti, affreschi di Niccolò Circignani, detto il pomarancio dal comune di Nascita, che, attenzione, condivide il soprannome con il figlio Antonio e Cristoforo Roncalli, ambedue pittori. Nel corridoio, la scenografica tomba del cardinal Gioacchino Besozzi, milanese, opera di Innocenzo Spinazzi, romano, seconda metà del Settecento, e in fondo la cappella gregoriana, ristrutturata a metà Seicento con una pietà in marmo su fondo nero, inquadrata da un drappeggio con stucchi dorati di autore ignoto. Sul soffitto e le pareti, opere di Girona Monanni, detto poco e buono, per il suo fare un po' cadagiato e tardo nel dipingere, come scrive Giovanni Baglioni nelle sue vite, coadiuvato da Giuseppe Nappi, milanese. In alto, Trinità con la Vergine in gloria tra i Santi Gregorio e Bernardo, mentre due angi liberano le anime del purgatorio, e ai lati a sinistra San Gregorio celebra la messa in un coro d'angeli e a destra la visione di San Bernardo delle anime ascendenti in cielo durante la celebrazione liturgica nell'abbazia dei Santi Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane. Proseguendo attraverso una scaninata dove sono inserite dentro nicchie le 14 stazioni della via Clucis, opera in bronzo di Giovanni Nicolini, artista palermitano realizzate nel 1933, si giunge alla cappella delle reliquie, che visto il divieto di fotografare non vi mostrerò, comunque in rete le potete vedere. Sono racchiuse in un reliquiario, opera del 1804 circa, di Giuseppe Valadie, romano, dopo che nel 1798, durante l'invasione napoleonica, gli originali in oro erano stati rubati. Ma sapendo dove è morto Napoleone, si potrebbe pensare che Sant'Elena abbia aspettato pazientemente il momento per mettere in atto la sua pulizione. Un saluto, David Lai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.